Bisogna ora individuare una persona che sia in grado di far ripartire questa azienda, che sia in grado di attuare un piano industriale già esistente, che sia quindi in grado di risolvere le situazioni debitorie che ha l'ACA, ma soprattutto di farla appunto ripartire sul territorio. Non sarà facile individuare questa persona e per questo mi permetto di fare un appello pubblico, perché ci sarà una vera selezione, chiunque pensa di avere le caratteristiche, e faccio un invito a tutti i professionisti, a tutti coloro che hanno queste capacità per inviare il curriculum che dovrà essere inviato dopo il 31 ottobre, perché assicuro a tutti una cosa, questa volta la politica si dovrà fare veramente da parte, la politica quella cattiva, mentre dovrà farsi avanti la politica buona, cioè quella che sceglie i migliori, le persone giuste al posto giusto. Un'ultima battuta doverosa su quanto accaduto ieri, insomma uno spettacolo che non è stato bello per nessuno, anche se poi la politica ha dimostrato che le cose si possono fare se c'è la volontà. Sì, ieri è stato un bel gesto, un bel gesto devo dire di tutti, bipartisan. Io vorrei contestare coloro che hanno visto la battaglia di ieri come una battaglia di centrodestra e centrosinistra. Ieri c'erano sindaci, c'erano persone che stanno in mezzo alla gente, che conoscono quali sono i problemi, e sia i sindaci di centrosinistra che quelli di centrodestra si sono uniti e hanno fatto un atto veramente di enorme responsabilità.